il tocco di mano accidentale che porta a segnare un gol o ad avere un'opportunità di segnare un gol non sarà più considerato fallo questo è successo in Chelsea Juventus assist di mano non volontario considerandolo un volontario di Rudiger ricordate nella sconfitta la Juventus 4 a 0 sul gol dell'1 a 0 allora in questo caso la nuova norma stabilisce che è fallo di mano se il pallone viene colpito in maniera volontaria dunque dunque muovendo la mano o il braccio verso il pallone gli arbitri che saranno chiamati a valutare bene la posizione delle mani e delle braccia quando una palla viene colpita con il braccio o con la mano dovranno comunque tener conto di queste casistiche dunque in questo caso rabbio si piega si inchina tiene il braccio attaccato al corpo e è girato di spalle doveva fare solo un'altra cosa amputarlo detto questo a noi non ci non ci va a cambiare nulla perché poi la partita la recuperi e la vinci però abbiamo assistito all'ennesima un ennesimo scandalo arbitrale nei confronti della Juventus negli ultimi anni un'altra regola modificata cambiata e applicata a loro piacimento avrei avuto il piacere che questo gol fosse stato annullato al Cagliari nella stessa identica situazione oppure che quel tiro fosse stato ribattuto da un difensore del Cagliari e non fosse finito dentro visto che viene annullato il gol in quel caso avrebbero dovuto darmi rigore e se un difensore del Cagliari si sarebbe messo in quella condizione che si è messo rabbio sarebbe stato un rigore scandaloso quindi perché dare un rigore scandaloso e altrettanto annullare un gol scandaloso le direttive di gravina sono queste al VAR si lavora con quelle direttive e chi paga è sempre la Juventus benvenuti sul canale di Combo Romano e attaccatevi al cazzo perché stavolta non ci avete fermato la settimana scorsa ci siete riusciti, stasettimana no però continuiamo ancora però la voce di popolo è sempre che la Juve ruba l'altro vi fanno sempre i fatti la voce continua a mettere i bastoni tra le ruote però al netto delle vostre sozzerie porcate immaginate che la scorsa settimana la porcata che poi si è verificata non fosse stata messa in pratica oggi c'era una classifica che recitava 1067, Napoli 66, Juve 65 e Inter dietro De Parenchio perché con tutti i favori che c'ha avuto mi sono persi i punti che c'ha in più l'Inter quindi adesso una bruttissima con una squalli da Juve con una partita in più stava a due punti dal Milan e a uno dal Super Napoli vi rendete conto? però noi sorridiamo perché ormai dopo questo qua annullato io posso solo sorride non mi posso neanche più arrabbiare e avvelenare perché questa qui è proprio capire che la direttiva arbitrale è quella di rompe in scatola Juventus perché questa è pura malafede perché io pensavo dopo Inter di aver visto lo schifo oggi questo gol mi dà dimostrazione che allo schifo non c'è mai fine però naturalmente senti Marelli chi stravorge un regolamento in maniera assurda dice che il gol è d'annullato e poi parecchia gente c'è la bocca pure perché la gente dice no il gol è d'annullato ma come il gol è d'annullato? quello fa di tutto che nasconde e c'è un regolamento che parla che dal 1 luglio 2021 è cambiato il regolamento e la Juve in Champions ci ha preso addirittura il gol e Marelli arriva e dice che cambia di regolamento l'unica cosa che ha detto Marino dopo lo sfogo di Juve d'Atalanta che ha detto che Marelli per fortuna ha smesso d'arbitrar l'unica cosa giusta che ha detto Marino in quello sfogo perché poi ha detto una marea di cazzate era rivolta verso Marelli che ha detto che per fortuna ha smesso d'arbitrar perché Marelli non capisce il cazzo mi dispiace dirlo ma Marelli non capisce alcun cazzo perché riesce a stravolgere tutte le volte i regolamenti a suo comodo a suo piacimento perché deve fare anche lui il pagliaccio televisivo ok parliamo parliamo dell'inizio bruttissimo parliamo di una squadra che ha giocato in in 9 8 sì in 8 e vorrei focalizzare appunto su un giocatore su Paolo Di Bale ragazzi miei io secondo me io per come la vedo sapete su Di Bale con quello che penso ma io lo metterai in tribuna fino a fine stagione o comunque sia al massimo un panchina e il primo quarto d'ora cammina in campo e io già lo vedo dico guarda miseria questo è già dopo un quarto d'ora già cammina perde tre palloni al quarto pallone che perde che perde ci fa prendere gol e non è una voietà perché a lui gli succede spesso si mangia un gol al primo tempo non indovina un passaggio continua a perdere palla e arretra talmente tanto da riuscire a lasciare Blauic da solo senza diciamo senza una spalla e fa giocare pure male Blauic poi però mentre la Ligri decide di cambiarlo vede che se sta scala da Kehne comincia a a a un pettato il pallone e fa due mezze giocate si mangia l'altro gol e fa un assist e ne fa l'altro quello del Vlaovic e poi tra l'altro quello del Vlaovic è pure un po' lungo quindi è pure un po' fortunato Vlaovic nel ripallo a sfruttare l'assist di Dybala tutto questo poi devo sentire gente che Dybala ha illuminato la juve io invece sarà che vedo il caccio in maniera diversa forse non so nemmeno tanto bravo a capirlo io ma io vedo di Dybala oggi in campo è quattro e sono pure generoso è il giocatore del talento suo che gioca tre minuti e mezzo quattro e fa un assist e mezzo poi si mangia tre gol due perde tra i 10 e i 15 palloni di cui uno c'è costa il gol e devo sentire la gente che Dybala ha illuminato la juve bella gente che ha scritto sulle pagine di instagram perché tutta questa canimento verso Dybala ma perché tutta sta difesa verso Dybala ma perché lo difendete così tanto ma che avrà fatto mai Dybala avesse così difeso dal tifoso juventino io ho visto gente massacrata per molto meno e questo sono due anni e mezzo che non fa cazzo io non riesco a capire perché dobbiamo continuare a difendere un giocatore che per me è indifendibile detto questo parlato di Dybala oggi ho fatto male perché poi mi ha servito al mio modo di vedere oggi voglio esaltare un altro giocatore che ha giocato malissimo è Arthur un giocatore che mi ha stra deluso anche oggi altra partita la Giannini il nostro Giannini 2.0 giocatore dell'orizzontalità perpetua giocatore che non verticalizza non cambia mai ritmo fa sempre la stessa identica cosa ogni volta che ha il pallone giocatore di buona qualità ma di intelligenza calcistica molto limitata e oggi ho visto un ottimo quadrato ho visto un buon Pellegrini conferma che il posto a titolare per me è suo in questo caso in questo finale stagione ai danni di Alessandro ottima prova dell'Itte Chiellini buono Zagaria sufficiente Rabiot e per il resto si è giocata una porta sola anche se non abbiamo avuto l'impatto la prepotenza della gara con l'Inter abbiamo subito il gol del Cagliari a livello psicologico però poi durante l'arco della gara non ha mai rischiato non ha mai subito azioni del Cagliari il Cagliari fa un tiro in porta e fa gol grazie alla palla persa della tibata per questo la partita è sempre stata in dominio della Juventus non dico sotto controllo ma comunque si è sempre risalti sotto pressione c'è poco altro da aggiunge e tranne il fatto che non riesco a capire ancora la gente come fa a difende paura di paura detto questo mai una gioia fino alla fine forza Juventus mai una gioia dedicata a Maglio grazie a tutti